Il presidente della provincia, Michele Strainese, comunica il conferimento dell'incarico di vicepresidente della provincia di Salerno al neoletto consigliere Carmelo Stanziola, sindaco di Centola. Le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale si sono regolarmente tenute il 3 febbraio scorso, dichiara il presidente Strainese e, a seguito della riunione di maggioranza che si è tenuta nei giorni scorsi con i neoletti consiglieri dei partiti di maggioranza, ho deciso di nominare un vicepresidente da scegliere fra i consiglieri provinciali. Il consigliere Carmelo Stanziola non solo è il primo eletto del Partito Democratico, ma è stato in assoluto il consigliere più votato. Per la precisione ha ottenuto 4.374 voti, ma la scelta della vicepresidenza ricade su di lui, non solo perché è il più votato. In sede di riunione di maggioranza, in maniera unanime, tutti i consiglieri dei partiti della maggioranza hanno espresso parere favorevole alla sua candidatura. La condivisione di questa scelta quindi ne rafforza la valenza politica. Inoltre, non ultimo, nell'ottica di una provincia vicina ai suoi territori, ho considerato importante avere anche un'attenzione all'aspetto geografico, con un presidente sindaco di un comune del nord. Ricordo che io sono il sindaco di San Valentinotorio e un vicepresidente sindaco di un comune del sud. Ricordiamo che Carmelo Stanziola è il sindaco di Centola. In questo modo possiamo essere presenti e attenti alle diverse esigenze, che vanno dall'agronocerino sarnese fino al Cilento. Infine, voglio sottolineare che la decisione della vicepresidenza è comunque una scelta fiduciaria. Con Carmelo Stanziola si è stretto da subito un forte rapporto sinergico. Abbiamo fatto squadra lavorando insieme per dare ai nostri territori e alle nostre comunità risposte concrete, puntuali ed esaustive. Gli auguro buon lavoro e lo auguro al nuovo Consiglio Provinciale, a tutti noi, perché solo in squadra potremo costruire un biennio di sviluppo per tutta la nostra bellissima provincia di Salerno.